Biceglia non può essere la città dello spaccio, della micro o macro criminalità, delle coltellate dopo una serata di divertimento in discoteca. Questa è una città in cui l'aggregazione giovanile, la possibilità di incontrarsi, la possibilità per i nostri ragazzi di uscire sereni e di rientrare serenamente nelle loro case, deve essere garantita a tutti. Per questo, dopo i brutti fatti che sono successi, non si può rispondere col bla 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 ma con iniziative concrete. L'associazione Borgo Antico vuole fare la propria parte. Abbiamo presentato stamattina al Comune una domanda di patto di collaborazione per assumerci, assumendoci completamente tutti i costi, la gestione di questa struttura che andrà ristrutturata, recuperata dopo gli atti di vandalismo che ha subita e farne un grande centro di aggregazione giovanile, con sala lettura, con sala studio, con biblioteca di comunità, con dopo scuola per i bambini del centro storico, con la possibilità di ospitare nel piano alto anche tutte le associazioni che fanno musica, teatro, danza, che fanno canto, che non hanno una sede in cui riunirci. Una casa dei ragazzi e delle associazioni in cui ci si possa ritrovare in maniera serena, sicura e controllata. Ed è questa la risposta che l'associazione Borgo Antico vuole dare anche ai brutti fatti che stanno dipingendo Biceglie in una maniera che non meritiamo e che soprattutto rischiano di portarci verso una deriva che con il nostro impegno vogliamo evitare.